Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche affettive per la prima metà di settembre 2023. Uh, abbiamo la morte, amici del Leone, periodo di tagli e di rigenerazione. Quando c'è la morte si parla sempre di un momento di passaggio dove è necessario lasciare indietro certe abitudini, certe attitudini magari, piuttosto che certe relazioni in qualche caso, perché ricordiamo che è una stesa sugli affetti. Però è anche una carta che parla di rinascita, quindi il tagliare qualcosa che non serve più permette a qualche cos'altro di entrare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Io, come sempre, vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare Ascendente, Segno Lunare e Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e trovate anche la mia e-mail nel caso vogliate contattarmi. Sempre nella descrizione ci sono anche link a video come il corso di tarocchi, piuttosto che le letture del secondo semestre 2023. Curiosate nella descrizione perché ci sono sempre cose interessanti. Per quello invece che riguarda gli abbonamenti, ragazzi, ho tolto una fascia di abbonamento, quindi ce n'è solo più una ed è quella che dà accesso ai video. Così, anche per chi avesse tentato di fare l'upgrade della fascia più bassa alla fascia più alta e non fosse riuscito, adesso non dovrebbero più esserci problemi. Allora, partiamo da un re di bastoni al contrario, la carta del sole, l'eremita, un 10 di bastoni. bastoni, un 3 di bastoni, un 3 di bastoni, un re di denari, queste cadute le tiriamo, la carta del giudizio, un 7 di coppia. Interessante perché partiamo con due carte che rappresentano il fuoco, quindi il vostro elemento. Allora, il re di bastoni potrebbe rappresentare una persona vicino a voi, o se non fosse una persona nello specifico, come l'idea che arriviate da un periodo un po' sottotono. Però avete il sole, quindi devo dire che all'inizio di settembre c'è qualche cosa che ha la possibilità di crescere, ha la possibilità di prosperare. Quando c'è la carta del sole c'è anche la chiarezza mentale, andiamo poi a vedere con i miniterocchi di che cosa si tratta nello specifico. C'è anche un'eremita qui ragazzi, ed è come se ci fosse l'esigenza di fare un lavoro interiore, un lavoro di ricerca spirituale interna. Qual è la vostra verità? Qual è la vostra luce? E il 10 di bastoni mi richiamo un po' l'energia della morte, della carta della morte, perché anche qui è una carta che vi dice che è ora di lasciarsi indietro certe responsabilità, certi pesi, certe aspettative, magari per qualcuno. E queste carte le andiamo a vedere poi direttamente con i tarocchi. E ripartiamo dal re di bastoni, andiamo a vedere. Allora abbiamo un 10 di coppa, al contrario, un asso di coppa, una regina di spade e un 8 di coppa. Devo dire che l'8 di coppa è la stessa energia, a grandi linee, dell'eremita è la carta del ricercatore. C'è qualcosa qui che avete bisogno di programmare. Può essere un viaggio ragazzi, perché comunque l'8 di coppa è una carta che parla di spostamenti e di viaggi. C'è anche un asso di coppa che potrebbe rappresentare, per qualcuno vi dirò, un figlio, perché comunque abbiamo anche il sole. Per qualcun altro potrebbe essere un'idea nuova, un nuovo inizio. Tenete presente che quando c'è la morte si parlava di chiusura e inizio. È una sorta di rinascita e qui abbiamo la nascita, ok? Andiamo a vedere il sole. 8 di pentacoli al contrario e giustizia. Qui ragazzi, nella prima parte di settembre si tratta di regolarizzare qualche questione che vi impegna nel quotidiano. La carta della giustizia è una carta che rimette in equilibrio. Toglie quello che non serve e qui arriviamo al 10 di bastoni, quello che vi sta pesando. Proprio per rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Vi dirò, se per caso siete senza lavoro, potrebbe arrivare il lavoro. So che è una stesa sugli affetti, però dico quello che vedo. E potrebbe anche essere un contratto, cioè se per esempio state aspettando qualche tipo di patteggiamento, qualche tipo di firma a livello burocratico, all'interno di una relazione, vi dirò che nella prima parte di settembre è molto probabile che questa firma arrivi. La giustizia è sempre una carta che parla di contratti, ok? Andiamo a vedere le remità. Andiamo a vedere cosa dovete vedere. Abbiamo un cavaliere di coppe e una regina di bastoni. Qui avevamo il re di bastoni. Allora ragazzi, qui può essere che l'eremità fa riferimento a una sorta di solitudine interna. Può voler dire due cose. Allora, per qualcuno è il fatto di darsi delle possibilità, darsi qualche tipo di, diciamo, prospettiva in più. Se siete in una relazione, io ho come la sensazione che qualcuno si senta solo all'interno della relazione, è come se ci fosse un'aspettativa da parte vostra nei confronti dell'altro o dell'altra. Andiamo a vedere il dieci di bastoni. Sole nuovamente. Sì, è come se ci fosse qualche cosa che non riesce a espandersi, qualche cosa che non riesce a crescere. Vi dirò, è uscita la carta della torre, tra torre e morte, periodo interessante, quello di inizio settembre. Però quando c'è la morte è una caduta del ego, normalmente. Quindi può essere che qui ci sia qualcuno che, egoicamente, per nutrire il proprio ego, si sia, diciamo, un po' così, attaccato a delle aspettative, a dei riconoscimenti che magari non sono proprio in linea con voi. Perché c'è anche una carta, cioè il quattro di coppa è la carta della cecità. C'è qualche cosa che non state vedendo. Ed è per quello che è venuto fuori l'eremita. È ora, probabilmente, di fare una sorta di ricerca interna, proprio per riuscire a vedere quello che con il quattro di coppe non si vede. Andiamo a vedere tra i bastoni. Cavaliere di bastoni. E7 di spalle. Allora, ragazzi, vi dirò... Allora, se siete single, vi dirò che nella seconda settimana di settembre potrebbe arrivare una conoscenza nuova, ma ho l'impressione che per qualcuno questa conoscenza sia già, diciamo, in essere, perché potrebbe essere un collega o una collega di lavoro. Magari è una persona con la quale c'è una forte amicizia, è una persona con la quale ci si trova bene a parlare, ci si sente protetti, ci si diverte, ok? Però è come se dall'altra parte mancasse quel qualche cosa in più. Qui ci potrebbe essere una sorta di incontro, un po' più intimo, diciamo, con questa persona. Non necessariamente intimo a livello fisico, ok? Può anche essere semplicemente un pomeriggio, non lo so, vi sto facendo un esempio, dove ci si ritrova, se fosse una questione lavorativa, in una riunione di lavoro, e si ha la possibilità di stare a contatto un po' di più rispetto al solito, ok? Andiamo a vedere però questo re di pentacoli, perché con sette di spada al contrario, qui vengono fuori delle questioni, e guardate, è uscito un 3 di coppe. Morte nuovamente, è fante di coppe. Uh, ragazzi, allora, potrebbe venire fuori che questa persona ha già una famiglia, ha già una relazione in essere. Vi dirò, avete la carta della morte, è quasi un consiglio che vi dicono, tagliate quello che non serve, però avendo anche poi il fante di coppe, ci potrebbe essere qualcuno, ragazzi, che si ridimensionerà, diciamo così. C'è anche un giudizio alla fine della lettura, che parla proprio di risveglio, di chiamata di tipo spirituale, per qualcuno anche fisica, quindi una telefonata, piuttosto che un whatsapp. andiamo a vedere il giudizio. Stella e 5 di spade, di bastoni, scusate. E come se vi rendeste conto ad un certo punto di come puntare l'obiettivo. Perché qui abbiamo poi un set di pentacoli alla fine, quindi è una carta di possibilità, ma è anche una carta di illusioni. Quindi qui c'è da valutare bene. Se per esempio la vostra persona di interesse fosse una persona un po', diciamo, in vista, potrebbe essere che ci sia parecchia, diciamo, competizione, ok? Però, ecco, tenete presente che con la torre dovete identificare che cos'è quella attitudine, quell'azione, quell'abitudine che dovete lasciare andare per una questione di ego. Ma perché? Perché è diventata pesante, è un fardello da portarsi dietro. È come se non riusciste ad espandervi per certi versi. Vi dico, si parte da un, ok, devo fare una ricerca, voglio questo nuovo inizio, ho bisogno di espandermi, ho bisogno di approfondire, magari questa conoscenza, se per caso la conoscenza è, diciamo, adesso come adesso su un livello di amicizia. Con la giustizia c'è da mettere in regola qualcosa, per qualcuno fa riferimento a un matrimonio già in essere, quindi abbiamo un dieci di coppe al contrario. Qui abbiamo un sette di spade e il tre di coppe, quindi ci potrebbe già essere una relazione in essere per qualcuno, da parte vostra o magari dell'altra persona, ok? Se così fosse, quest'oremita mi dice che vi sentite soli all'interno della relazione. se state aspettando una chiamata di qualcuno potrebbe arrivare, però ragazzi, io qui ho come la sensazione che prenderete coscienza di quello che dovete lasciare indietro, di cambiare obiettivo, magari, perché la stella parla proprio di obiettivo, parla di sogni, parla di direzione anche, e come, ho capito che direzione devo dare a questa relazione, a questa situazione, che possibilità si possono aprire. Vi dico, tra la morte e la torre qualcosa butterete giù. Andiamo a vedere una carta con questi oracoli e poi ne tiro un altro, da un altro mazzo. Ragazzi, separazione, delusione. Sì, probabilmente qui, perché c'è la torre effettivamente, può anche essere che qualcuno abbia bisogno di prendersi un momento di riflessione, ma vi dico così perché quando c'è, diciamo, questa zona di carte mi può far pensare che qualcuno venga o verrà a chiedervi scusa. C'è anche la carta del giudizio, una carta che parla di passato, quindi non sento che sia per molti, ma per qualcuno potrebbe fare riferimento a una persona dal passato che ritorna proprio per chiedervi scusa. Il punto qual è? Non vi sento molto convinti, perché avete ancora del dolore dentro, ok? Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. ragazzi, per qualcuno può essere un'amicizia, perché ho due volte il sole e il tre di coppe, Stavo guardando se c'è anche un sei di coppe, ma non mi sembrano. ok, ce n'è un po'. Allora, carta numero due. Ragazzi, questa carta vi dice che siete protetti o comunque di cercare di proteggervi. parla di amuleti, ok? Quello che vi posso consigliare io è una pietra di ossidiana, quella nera, va bene anche la tormalina nera, va bene l'onice nero, le pietre nere di per sé hanno queste proprietà protettrici. parla anche di fortuna è questa carta, quindi è un po' come se vi dicessero di curarvi per aumentare mi verrebbe da dire la fortuna. Carta numero 26. Wow! Guardate, tre di coppe. parla di celebrazioni. Sapete cosa sto guardando? Potrebbe esserci un ritorno da parte di qualcuno come vi dicevo prima dal passato però con uno stato diverso. Ho come l'idea che essendoci questo re di pentacoli al contrario potrebbe essere che prima la persona era impegnata e verso metà settembre ci sia questo sblocco burocratico per cui ci sia questo nuovo obiettivo da poter raggiungere. E poi abbiamo la carta numero 32 che parla di specchi che parla di specchi. E' interessante questa carta perché fa riferimento alla luna e alle proiezioni della luna alle vite passate e all'autocura anche questa. Amici del leone spero che la lettura vi sia stata utile fatemelo sapere con un like un commento con una condivisione se avete piacere potete lasciare una donazione o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao